Al mio fischio ho tutti in acqua! Ehi, oppure non vai! Ho paura di tuffarmi! No, e non fare la fivona, tuffati! Ma guarda! Guarda lassù! Non vedo niente! Questa sicchia era un tuffo! Aiuto! Oltre, mi stai chiedendo aiuto! Povera! La coraspira! Ah, cosa? Ho una coda! Ma sei una sirena? Sì, tesoro! Ti piacerebbe vedere la mia casa? E me lo chiedi? Che bella! Aspetta un attimo, torno subito! Che cosa ci sarà qui? Un vampiro! Ho una collana d'aglio! Vieni! Succo d'aglio fresco! Tornendo! Oh mio Dio! Oh, eccoti! Un vampiro spaventoso stava qui dietro! Stupidina! Non è spaventoso! È gentile! Ciao! Ciao! Ops! Siediti! Questo lo leviamo! E firma i documenti di adozione! Ma che cosa? All'età! Servono 16 anni! Ho un'idea! Prendiamo una torta e aggiungiamo 10 anni! Esprimi un desiderio! Vorrei avere 16 anni! Non funziona! Ma che è successo? Sono vecchi! E sono tornati giovani! Che bello! Hai ora firma! Ma ora che c'è? Hai visto la seconda pagina? No, ma... Vediamo! Ti devi trasformare in una dark sirena! In 24 ore! Ma è impossibile! Dai un'occhiata a pagina 3! Orfanotropio! No! Non voglio! Calma, ti tesoro! Beh, decidi tu! L'orologio scorre! Ci vediamo! Applichiamo dei cerotti! Ecco qua! E vai! I profoli sono scomparsi! Una maschera luminosa tratterà le imperfezioni! Possiamo toglierla! La bella è liscissima! Tratteremo gli occhiaie con i cerotti e via! Applichiamo questi sotto gli occhi! Contiamo! Ora togliamolo! E la pelle è luminosa! Eccezionale! Ora passiamo al trucco! Abbiamo gli strumenti per questo? No, no! C'è la tecnologia all'avanguardia! Non so scegliere il mio trucco! Wow! Mi piacciono questi occhi! No! Labbra diverse! Ora ci siamo! Come vi sembra? Un trucco da star! Make-up fatto! Andiamo avanti nella lista! Provaci adesso! Ma non viene! Che cosa faccio? Ehi, ragazzi! Cliccate mi piace! Non voglio tornare a essere una nerd! Vi prego! Sono disperata! Che fai? Vi devo un favore! Mi serve un pisolino! Oh, che puzza qui! Non è un buon odore? Ma è rosa! Dobbiamo fare qualcosa! Svegliati, tesoro! Dobbiamo occuparsi dei tuoi denti! Oh, l'odore è terribile! Beh, se lo dite voi! Apri bene la bocca! Ce la possiamo fare? Fammi vedere i denti! Togliamo questi con una pinzetta! E togliamo la placca! Oh, che disgustoso! E adesso li spazzoliamo! E ora con un irrigatore togliamo tutto! Ollo sbiancante! Mi piace! Ultimo tocco! Le nuove zanne! Pronte! Sì, come ne mie! Guarda! Denti, facci! Cosa è questo rumore? L'hai sentito? Gli uccelli hanno fatto un nido sulla sua testa! Non va bene! Ai, pupo! E va bene! Non preoccuparti, ci pensiamo noi! Per prima cosa, tagliamo tutta questa spazzatura! Ora ti leviamo bene i capelli! Useremo una bomba d'acqua profumata! Ne fa ammettere che mi piace! Ora togliamo tutta la schiuma! Una bella differenza, eh? L'asciughe a capelli è rotto! Non preoccuparti, ci penso io! Ehi, è venuto benissimo! Fincheri i capelli potrebbe essere un'idea! Ci serve un polpo? Non ci penso proprio! Se n'è andato! Ci penso io! Tieni là! Potrebbe farti un po' male! Non farlo! Ma dai, stavo scherzando! Ha funzionato! Oh, che bello! Sì, andiamo avanti! Ora sei adorabile! Una striscia blu come la mamma! Acconciamo per ben i due capelli! E mettiamo qualche accessorio! Wow, grazie mille! I capelli sono fatti! Non vedo l'ora di diventare una sirena vera! Tesoro, penso sia il momento di passare a un look più da sirena! Un po' di magia! Che figo! E ora che facciamo? Aspetta e vedrai! Wow, sono grande! Sì, lo so! L'ho sempre saputo! Un nuovo top! Ha funzionato! Proprio amico! Sono contenta che ti piaccia la mia ragazza! Le prossime sono le ali! Ho un'idea! Le chiederò al mio amico Drago! Sì, che ci aiuterà! Ehi là, Drago! Ha detto che è tutto a posto! Stai qui e aspetta! Ci metto solo un minuto! Ehi amicone! Ma dentro da un po'! E vai le mie ali! Sei il mio supereroe! Sì, forse mai lo vediamo! Ci vediamo amico! E vai! È andata! Altro punto preso! Sto andando tutta alla grande! Ora come faccio però a cambiare le gambe con una coda? Proviamo questo gioco! Oh, wow! Una sedia! No, una sirena clown non va bene! Una testa di cavallo è ancora peggio! Ehi, sacchi della spazzatura! Ecco! Questa è perfetta! Ehi ragazzi! Qual è il vostro gioco preferito? Scrivetelo nei commenti! Ciao, ciao! Beh, anche con la coda abbiamo fatto! Speriamo di fare una buona pesca! Allora che ne dici della mia nuova coda? Che cos'è? Aspetta! È una moda pesca! Stanne lontano! Dai, a bocca! Ma non resterà a bocca asciutta! Che cosa intendi? E questo cos'è? Un messaggio nella bottiglia! Oh, che cattivi! Che cosa ci facciamo? Ho un piano! Tagliamolo e facciamoci degli accessori! Wow, che carini! Sono tutti per te! Ora sono una vera sirena! Giusto? Mi è venuta fame! Aspetta! Ecco! Frisco di raccolta! Oh no! Prendi un po' di insalata d'alghi! Porcherità! E va bene! Ci deve essere qualcosa! Un po' di frutta! Ah sì, mi piace! Ottimo! Penso di averne avuto abbastanza! Grazie! Wow! Prego! Ora che hai mangiato, possiamo passare all'ultima parte! Le branchie! E come faccio ad averle? Conosco un modo! Useremo del filo! Lo tagliamo e lo modelliamo! E li uniamo! Ritagliamo una branchia e la incolliamo al filo! Una ravvivata e le branchie sono fatte! Ecco a te! Wow! Mi piacciono a sacco! E l'ultima parte del piano è completata! Tesoro, sei proprio carina, ma la tua pelle è un po' pallida! Dobbiamo abbronzarti! Oggi è una giornata perfetta per abbronzarsi! Ottima osservazione, tesoro! Voglio fare una foto! Che succede? Mi stanno cecando! Per favore! Guarda quelle gambe! Confettino sfigato! Che cos'hanno le mie gambe? Che cattive! Deve rinfrescarsi un po'! Ma perché? Tornatevene a casa! Che bello colore! Sono bruttissima! Oddio, tesoro! Cosa possiamo fare? Beh, ora è troppo! Giusto! So cosa fare! Ecco qua! Ken vince! Verdi, tesoro! Guarda che cosa ho! Ti regaleremo un restyling da sirena! Va bene! Dobbiamo fare qualcosa per questa pelle! Oddio! No, non ho il coraggio! Prendiamo dei cerotti per l'acne! Fai ferma! Non ti muovere! Aspetta! Devo controllare se sono fashion! No! Questo non l'è per niente! Non metterò mai questa cosa in faccia! Hai ragione! Ehi, dei cerotti scintillano! Vediamo! Sì! Questi sono quelli che mi servono! Però! I brufoli brillano! E questi qui? Lo sapevo! Wow! Li adoro! Oh, Barbie! Dovremmo dargli qualche minuto! Oh, wow! Ora, passiamo ai capelli! Ma questa acconciatura non serve a niente! Ci servono dei lucci da sirena! Facciamolo! Va bene! Schifezza piccicosa! Da dove viene questo? Vorrei saperlo anch'io! Ok! Aggiungiamo un tocco di colore! Wow! Che accessori! Ora l'ultimo tocco! Mi piace un casino! Sì! Proprio un ottimo lavoro! Wow! Ma dove stai andando? A raccogliere conchiglie! Oh! Che carina! È il momento giusto! Ti senti bene? Aia! Un'altra conchiglia! Cos'è questo? Wow! Un invito a una festa! La parola d'ordine è sirena! Voglio andarci! Chi siete? Siete qui per la festa? Sì! La festa delle sirene! Barbie! Ci sono regole acquatiche qui! Oh! Oh cavolo! Password! 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 Non la so! Una password! Ehi ragazzi! Aiutatemi! Conoscete voi la password? Scrivetela nei commenti! Grazie! La prossima sulla lista sono le scaglie! Va bene! La domanda è Ma dove le prendiamo? Odore di un'idea! Ti ho preso! Veste calma! Fa tutto bene! Cosa? Qualcuno soffre il solletico? Eh? Oh! Oh! Però mi stanno bene le scaglie! Che puzza di pesce! Wow! Che scaglie! Eww! Anche queste puzzano di pesce! Nessuno si muova! Questa è una rapina! Datevi tutto quello che avete! Prendi lei! Ehi là! Non riesco a respirare! Mi hai rovinato la faccia! Ciao ciao! Oh! Un'idea! Sì! È geniale! Un disegno delle scaglie non puzza! Questi accessori da sirena costano una fortuna! Cosa posso fare? ho trovato un tesoro! Ken! Santo posentone! Guarda cosa ho! Ma cosa? Wow! È adorabile! Adoro i diademi! Adoro i diademi! Ne prenderò un altro! Qualcosa! Altri accessori! Ossi! Ossi! Ora ci serve una coda! Facciamo un po' di magia! Estratto di conchiglia! Perle dell'oceano! Coralli magici! E bolle di sapone del destino! Wow! Funziona! Barbie! La tua coda sarà qui da un momento all'altro! Dai! Sono pronta! Devo sistemare le cose! Ostri che stella marina! Rivoglio la mia amica di prima! Ha funzionato! Oddio! Riporta le cose come erano prima! Preferisco essere un pesce piuttosto che avere le gambe veloce! Ok! Ci riprovo! Ok! Sì! Ha funzionato! Sono un genio! Sì! Oddio! Piano! Tutto quello che vuoi piccola! Sono ufficialmente una sirena! Controlliamo la lista! E quello cos'è? Wow! Una mappa del tesoro nascosta! Fantastico! Saremo ricchi! Chi è il milionario? Io sono il milionario! Chi è ricco? Io sono ricco! Ken credolone! Per sbloccare la mappa ci servono 30.000 like! Ken! Posso comprare tutto quello che voglio? Ken! Anche un cavallo! Ken! Che c'è? Non possiamo vedere la mappa se non abbiamo abbastanza like! Oh no! Non sarà più ricco! Oddio! Ragazzi, aiutateci! Cliccate sul pulsante mi piace così possiamo vedere la mappa! Per favore! Sa che potete farlo! Aiutatemi! Devo imparare il canto delle sirene! Ferma! Posso? Grazie! Grazie! Tocca a me! Ferma! Basta! Fermati! Oddio! Ho distrutto la stanza! Non sono una brava cantante! Non ti preoccupare! Possiamo risolverla! Ora ti ricostruisco una stanza da sirena! Va bene! Questa mettiamola laggiù! Ecco qua! Questa chirlanda sarà un'ottima decorazione! Perfetto! Guarda! Sembra di essere in mezzo all'oceano! Adoro la mia nuova stanza! Tutto morito mio! Vabbè non serve ancora! Ok! Sorridi! Sei una sirena perfetta! Ehi! Guarda chi c'è! Ciao! Sono una nuova sirena! Davvero? Sei una sirena perfetta! I tuoi capelli! I tuoi accessori! Che stile! Sono spalordita! Ce l'abbiamo fatta! Addio! Grazie di tutto! Addio! La mia piccola pesciolina è diventata una sirena meravigliosa! Oh sì! Mi arrendo! Prendi tutto quello che vuoi! Ehi amico! Sono io! Ciao! Come stai? Mi puoi tenere questi soldi? Devo fare una pausa! Cosa? No! Non c'entro niente! È finita! Sono dietro le sbarre! Ma perché io? Che patetico! Datti una calmata! Devo respirare! Le chiavi sono proprio lì! Ehi! Guarda! Le chiavi sono proprio qui vicino! Basta allungare una mano! No! No! Non ci arrivo! Ehi! Forza! Ce la puoi fare! Interrompo qualcosa! Non stavo non facendo niente! Ma sei solo una bambina! Sono un agente di polizia? Un agente? Mi fanno rire! Sei proprio simpatica! Vediamo se vi fa ridere questo! Accendi! Sì! È stata divertente! Prigioniero numero uno! Iniziamo! Odio fare le foto! Che cosa? Ma dove è andato? Basta! I miei occhi! Mi stai accecando! Che crudelità! È iniziato tu! Sotto col prossimo! Stop! Grazie ragazzi! Sono pronto per un altro servizio fotografico da bomba! È sopportabile! Vuoi rimanere termo con quel cartello? Certo! Sono un professionista! Ci serve un piano di fuga! Non possiamo più rimanere qui! Dobbiamo mantenere un profilo basso! Travestimento perfetto! Mercoledì! Mi hai trovato! Mi sei mancata! Non potevo lasciarti! Non ho mai dubitato di te per un attimo! Straniero! Non mi fai paura! In guardia! Ken! Sono io! Barbie! Ehi! Appena in tempo! Presi! Oh no! Ups! Non vi potete sottrarre alla giustizia! Lasciaci andare! Svegliati! Dobbiamo aiutarle! Barbie! Che cosa facciamo? Per farmi pensare! Dobbiamo aprire l'occhetto! I like! Ragazzi! Premete il pulsante like! Così possiamo aprire l'occhetto! Aiutateci per favore! Ha funzionato! Siamo libere! Grazie! Ciao Barbie! Già mi manchi! Che cosa ha qui? Le chiavi della cella! Sì! Le chiavi? Non te le aspettavi eh? Me ne vado amico! No! Me le sono fatte sfuggire! Sul serio? Spiegato! Ora sono veramente arrabbiato! Ma certo! Grazie per il promemoria! Questo è il mio martello pneumatico! Cos'è tutto questo rumore? Cavolo! Come funziona? Che succede? Dovrò portarmi le istruzioni! Meglio staccarlo! Consegna per Ken da Barbie! Grazie! Barbie mi pensa! Che fortuna! Ci deve essere sicuramente un passepartout! O della tua limite! O una lima! Apri! Wow! È una bambola! E cambia colore! Ok! Devo solo immergerla in acqua! E funziona! Come se non fosse mai stata colorata! Proviamo il tuo vestito! Wow! Oddio! Oh Barbie! Basta lamentarti! Questa è qui! Una chiave! Siamo salvi! Sembra che non ci va bene però! Fermati! Non è la chiave della cellula! Davvero? È la chiave della scatola dei ricordi! Sul serio? Oh Barbie! Quante ne abbiamo passate insieme! Mi manca! Perché non mi mettete in isolamento? Non sopporto quest'idiota! Mano! È per me! Una pianta della prigione! Che fortuna! Diamo un'occhiata! Ma non ce la faccio a tenerla aperta! Devo bloccarla! Non ci riesco! Ken! Dammi una mano! Che? Ho cose più importanti da fare! Cose più importanti eh! Ti faccio cambiare idea! Iniziamo con darmi una mano! Lossami! Me la strapperai! Proprio quello che volevo! Ehi! Ridammi la mia mano! Mi serve più in una missione! La tengo per un po'! Non mi basta! Rimani fermo! No! Oh no! La mia testa! Mi stai rovinando i capelli! Dove devo andare? Dritto! Destra! Ancora destra! Ragazzi, quale strada devo prendere per uscire di prigione? La prima, la seconda o la terza? Più cliccate il pulsante like più riesco a risolvere il problema! Cosa vedi? Eccomi! Quanta sporcizia! Io... Oh no! Barbie! Ma chi è stato a farti questo? Ti libero subito! Che cos'è questo casino? Ken! Scendi giù! Ci sono quasi! Me ne vado! Me ne vado! Me ne vado! Per niente! Barbie! Che schifo! È stata tutta colpa sua! Pensate che non vi abbia visto! Odio Barbie! E odio Mercoledì! Me lo ricordo come fosse ieri! Sei la migliore di tutte le bambole! Guarda le nostre nuove bambole! Barbie è Mercoledì! Ma la mia non è così carina! È brutta! E deve andare in un cassonetto! Non me lo dimenticherò mai! È colpa loro! Cosa? Allora è colpa delle bambole! Ma certo! Questa è per te! Un regalo! La Barbie più bella di sempre! Non posso credere se è mia! Speriamo che funzioni! Eh sì! Sei libero! Quanto a me, ho un sacco di cose da fare! Ma stai giocando? Ancora il tuo torno! In questo caso, me ne vado! Mi licenzio! Cosa? Pronto! Dovete venire subito! Ti dirai! Agente! Lei ha distrutto la mia casa! Mi aiuti! Tu vieni con me! Ho fatto la mia parte! Piano! Devo assolutamente sentire Inid! Inid! Sorpresa! Eccomi qua anch'io! Ma come... Ah, questa sì che è una bella storia! Gli zombie non possono fare acrobazie! Ma perché? Ma certo che sì! Ora ti faccio vedere! Ta-da! Che ne dici? Ops! Imbarazzante! Scusate, non volevo! Mi arrendo! Risparmiati per il giudice! Ed ecco che sono finita qui! Non c'è speranza! Questa sedia non ci ha mai deluso! Ho paura! La mia sedia è sicuramente a un altro livello! Aggiungiamo un bel costino! È terribile! Prendiamo l'interruttore! E mi sento male! È ora di agire! Attivazione mega! E tu chi saresti? Obiettivo individuato! Distrugge! Obbola! Non mi puoi prendere! È troppo veloce! Oh no! Mi ha rotto Megan! Mi sono perso qualcosa! Questi sono dei violenti criminali ricercati! Capito? Bisogna arrestarli! Puoi farlo? Ah, io voglio una ciambella! No! Prima il lavoro! È immangiabile! Che belle ciambelle! Capito? Mettiti subito al lavoro! Ciambelle! Ascoltami! Ora ci darai tutte le ciambelle! Ti do le ciambelle! Finalmente qualcosa che possiamo mangiare! Ma dove sono a cominciare? Tieni, prenditene un po'. Cosa? Giochi! Ti le sei mangiate tutte! Ti avevo avvertito! Vai in cella, così ripulirei la tua coscienza! Ha funzionato! Dammi il cinque! Che mal di testa! Ma cosa era quel rumore? Addio, bambolina! Via la testa! Ah no! Ci sono l'uomo ragno! Chi sia stato non si sa! Prossimo! Questa come ci è arrivata? Meglio un unicorno! Ma che sta succedendo qui? Ridammelo! Ehi! Una ghigliottina proprio o no? E adesso come la giustizia lei? Che modi! Che pesa di essere! Finalmente un po' di pace! Che fastidio questo mal di testa! Ma non mi penso all'epico! Ancora rumore! Chucky! Al tuo servizio! Occupati di quelle due! Ma certo! Questi braccialetti sono per voi! Va bene! E tu! Oh che carino! Grazie! Oh sì! Adorabile! Libera! Vi controllo! Tutto fatto! Bel lavoro! I miei adorati amichetti! Che cosa facciamo? Aspetta! Nid! Dammi uno di quelle luce! Cosa? Non ci penso nemmeno! Per favore! Davvero? E va bene se me lo chiedi così! Molto gentile! Mi farò buon uso! Oh no! È proprio crudele! Fatto! Mano, entra dentro! Non penso proprio! Entra! Questo è l'unico modo per salvarci! Non puoi ripetarti! Ecco! Mano, devi distrarre la guardia! Vai! Ehi là! Qualcuno ti ha lasciato un regalo! A quanto pare è un ammiratore! Cosa? Qualcuno si è innamorato di te! Oh! Che carino! Non ti lascerò mai! Ora inizia il divertimento! Che succede? Un'esercitazione! Ciao, ciao! E intanto io mi prendo in prestito le chiavi! Troppo tardi! Cosa dimenticavo? Volevi provarci, eh? Non so di che parli! Tallito! Non te la prendere, dai! Io ce l'ho messa tutta! Che ne dite? Vogliamo uscire? Wow! Bella idea! Cosa? Ma avevi da sempre la chiave? Dai, andiamo! Facciamo piano piano! Oh, sì! Mi raccomando, nessun rumore! Wow! Che bel bottone! Non resisto! Fatemi uscire! Ah! Sì, sono libero! Attenti! Sì, sono sveglia! Che cosa succede? E voi? Oh, Dio! Ultime notizie! Un pericoloso vampiro è scappato dalla prigione e sta attaccando la città! Le persone sono in preda al panico! È scappato! Chi c'è dietro a questo? Cosa? Non ne sappiamo niente!